Ore 10, calma piatta. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video estivo ma soprattutto un video di calma piatta sui mercati in generale, i mercati delle crypto soprattutto ragazzi perché guardate Bitcoin che cosa sta facendo da qualche settimana, quasi un mese ragazzi, praticamente è un laterale ribassista ma lentissimo e senza volatilità ragazzi. Gli ultimi giorni praticamente sono delle candele con lo stesso identico prezzo che scendono in maniera estremamente lineare e molto molto veloci, guardate anche la struttura del grafico a chiusure come appunto si evince questa assenza totale di volatilità. Allora è un po' normale, siamo in periodo estivo, a dire la verità di solito agosto è un mese estremamente volatile in alcuni momenti, siamo ancora al 7 agosto ragazzi quindi non è detta l'ultima parola, vediamo quanto dura questa assenza di volatilità ma di solito c'è la tecnica, la teoria della molla. Ora non ho una molla, la stavo cercando, vediamo se riesco a trovarvi una molla per farvi capire questa cosa ma eccola qui, devo smontare una penna ragazzi, va beh, l'ho trovata. Allora, la teoria della molla dice ragazzi che quando andate a comprimere in pratica, no, questa molla si vede, non si vede, no, metti a poco, metti a poco, metti a poco, niente, non la metti. Vabbè, quando ragazzi questa molla si va a comprimere, più è compressa più la forza esplosiva successiva è maggiore, questa teoria è da sempre valida e quindi una compressione di volatilità così intensa prelude in pratica a uno scoppio di volatilità abbastanza consistente che di solito avviene all'improvviso in maniera un po' lineare, cioè cosa succede? Che prima magari inizia ad aumentare la volatilità e poi fai boom, 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 ok? Così, quindi non è una cosa che avviene da un momento all'altro. La reazione della volatilità è sempre lineare, cioè è molto ciclica anche questa e agisce modificandosi man mano ragazzi, quindi non fa zero, mille, non fa così. Pian piano insomma inverte il suo ciclo di volatilità aumentandola fino a poi esplodere, quindi c'è un preludio di esplosione di volatilità che potrebbe assolutamente avvenire sui mercati o da questo mese oppure quando sarà finita questa fase diciamo veramente di pausa estiva. C'è anche una struttura che ciclicamente ragazzi un po' dei segnali li ha dati, soprattutto con il minimo dell'1 agosto di martedì scorso perché quel minimo dell'1 agosto ha indicato sostanzialmente un inizio possibile di un ciclo mensile proprio da questa parte con una conclusione di un ciclo mensile che a quel punto non è avvenuto in sostanza su questo minimo che era quello di luglio cioè quello del 24 di luglio ma sarebbe avvenuto l'1 agosto. Se però andiamo a mettere la struttura in close già si evince come questa cosa è assolutamente diversa perché nella struttura close il minimo è avvenuto qui e anche oggi sta facendo minimi inferiori quindi potrebbe in effetti ragionare su cicli diversi. È complicato in questo contesto andare a fare un ragionamento preciso sui minimi perché quando siamo in assenza di volatilità e quando siamo in una barra di congestione laterale in questo caso ribassista ma comunque un laterale è difficile ciclicamente ottenere dei dati univoci dove noi abbiamo dei minimi che sono indicativi in maniera precisa e questo è un po' il problemino che insomma ragazzi abbiamo proprio con questo tipo di analisi. Fermo restando che poi allargando la visuale quindi andando a ragionare non sulla questione del ciclo magari mensile ma un po' il ciclo trimestrale andiamo a ottenere altre informazioni che poi possono essere estremamente utilizzabili anche a livello operativo. Se guardiamo anche il CME quindi il future di Bitcoin quello che magari è un po' meno pieno di shadow come lo spot normale ci rendiamo conto che anche qui l'1 agosto presenta questo minimo e quindi la formazione del minimo è anche qui la stessa rispetto a quello dello spot quindi non sappiamo con precisione se effettivamente il minimo sia avvenuto l'1 agosto o il 24 io al momento per correttezza nei confronti della questione della teoria ciclica precisa uso il minimo dell'1 agosto perché è quello che ha fatto lasciato prolungata e poi ha anche un rimbalzino interessante perché ha avuto un rimbalzo abbastanza pronunciato rispetto a quello invece del 24 di luglio che sì siamo stati tanti giorni sopra il minimo però poi ha fatto questo scroscione ma soprattutto non ha mai fatto un rialzo consistente invece qui un rialzo consistente c'è stato e questo secondo me può essere indicativo che sul minimo di agosto può essere iniziato il ciclo mensile di Bitcoin cicli mensili che sono più corti del solito perché questo dovrebbe essere configurato come una metà del ciclo trimestrale e da quello che si evince da questi primi giorni è estremamente debore quindi non prelude una cosa positiva c'è da dire che dobbiamo aspettare la chiusura del primo settimanale che avverrà a momenti e soprattutto fin tanto che regge il minimo di 28.574 prezzi Bitstamp vediamo se ve li faccio vedere sul su un altro grafico con i prezzi per esempio di Bitfinex ok vediamo questo sui prezzi di Bitfinex questi sono i miei grafici quelli iperciclici eccolo qua allora è il minimo a 28.637 io utilizzo spesso i prezzi di Bitfinex che sono più puliti da alcuni punti di vista quindi abbiamo in sostanza un'area che è 28.628.5 quindi fino alla tenuta di 28.500 questo ciclo mensile può essere identificato come addio che è successo qui siamo spariti tutti ok ragazzi eccolo di nuovo può essere identificato come ancora nonno ribassista però è pericoloso ragazzi questo lo capite bene perché qualora il prezzo di Bitcoin scendesse al di sotto di questo minimo va a configurarci tutta la struttura ciclica mensile al ribasso e anche la chiusura del ciclo trimestrale ormai iniziata e quindi verso la fase finale ciò significa che un eventuale breakout conferisce al mercato una struttura di debolezza che potrebbe perdurare fino alla fine di agosto barra metà di settembre questo ciclo trimestrale l'ho impostato in chiusura il 10 di settembre ed è assolutamente nella norma in termini anche di durata e potrebbe in effetti essere così quindi ragazzi solo ed esclusivamente un superamento dei massimi avvenuti il 2 di agosto a 30.025 invece modifica questa struttura è da sbrancio a questa seconda parte del ciclo probabilmente trimestrale di poter fare una nuova fase del genere e poi andare in close vi ripeto fin tanto che questo minimo regge 28.500 questa ipotesi che chiameremo ipotesi 2 è ancora possibile è un po' difficile che vada a verificarsi perché da questi giorni vedete c'è molta debolezza però non è da escludere in quanto fino a tanto che non è bucato questo minimo quella ipotesi resta valida capite bene che anche le due medie mobili 11 e 21 che utilizziamo sono essenziali per questo tipo di movimento e che quindi il mercato prima di breccare questo livello andrebbe senz'altro a intaccare queste medie già quello potrebbe essere un segnale di forza e quindi anche un segno di chiusura per esempio di bitcoin al di sopra delle medie mobili 11 e 21 quindi 29.5 per essere precisi 29.6 potrebbe essere indicativo perché no di un tentativo long del mercato ma fin tanto che questa cosa non avviene si resta in attesa e quindi alla finestra perché questa fase è diventata estremamente complessa in più tra le altre cose sono passati tanti giorni perché dall'inizio del ciclo trimestrale siamo a 53 giorni quindi è molto probabile che il mercato stia andando verso la sua naturale chiusura del ciclo trimestrale che avviene di solito tra i 70 e i 90 giorni poi alcune volte ha fatto anche dei cicli anomali siamo andati anche a 112 si può fare anche una cosa del genere però a noi non importa perché tanto quando siamo in fase di chiusura del ciclo trimestrale basta solo attendere un'eventuale inversione quindi non importa se a lungo o meno l'importante è non essere posizionati long contro trend quindi poi la lunghezza finale è irrilevante una volta che noi siamo usciti da questo trend il mercato quando continua, continua quando finisce il trend poi risaliamo cioè non serve stare lì a contare insomma perché non è corretto usare la ciclica in quel modo ragazzi andando a prendere posizioni contro trend contando i giorni assolutamente scorretto vi sconsiglio di farlo perché la ciclica ha molta divisione standard nei tempi e quindi poi quando sbagliate prendete dei pesci in faccia colossali e quindi questa cosa è proprio un modo una volta si usava però insomma lo sconsiglio vivamente di fare una cosa del genere veramente pericolosa se lo volete fare money management a tavoletta come si dice quindi molto importante quindi struttura del ciclo mensile probabilmente in atto a oggi siamo dal 1 di agosto a 6 giorni quindi stiamo chiudendo il primo ciclo 13 quindi il primo ciclo settimanale da lì inizierà il secondo attenzione al secondo perché ok lo sprazzo di rialzo ma poi se inizia ad essere debole probabilmente bucherà i minimi e andrà a indicarci un mensile ribassista attenzione perché anche il precedente mensile è stato ribassista quindi non è anomalo che questa struttura continui a mandarci poi in close solo questa struttura mensile ragazzi poteva avere una velleità rialzista perché essendo metà del ciclo trimestrale poteva anche invertire questa struttura di ribasso però se il mercato come sembra non vuole fare una cosa del genere niente bisogna sta fermi e attendere che il mercato vada a configurare la sua fase di naturale di riposo poi da settembre in poi con la chiusura magari del ciclo trimestrale e vediamo dove arriva da qui in poi si potrebbe ragionare di un'altra posizione longa però attenzione perché come vi ho fatto il video l'altro giorno delle quattro fasi dei quattro quadranti del ciclo 9 di bitcoin andiamo verso l'ultima fase l'ultimo trimestrale di bitcoin diventa un po' difficile assistere a un massimo nell'ultimo trimestrale di un ciclo annuale che è un di accumulazione teoricamente quindi non di burranna diventa complesso secondo me e ragionare in quel modo tutto è possibile può essere tradato lo possiamo fare il tentativo però aspettarci delle età da ottobre in poi di bitcoin vediamo perché può essere che insomma se avviene una cosa del genere può essere che abbiamo vagliato dei conteggi più che altri che magari l'annuale è un po' anomalo e chiuderà magari poi a febbraio insomma quindi si allunga insomma eccetera però al momento io ragiono un po' in questo modo ragazzi anche perché la forma della struttura ciclica di bitcoin sembra proprio aver indicato la struttura della curva naturale guardate qui come è la struttura e poi anche il fatto di questo massimo che non sia stato oggettivamente più alto in maniera pronunciata rispetto al precedente ha configurato un'area di resistenza molto importante intorno a questa zona allora attendiamo la chiusura di queste fasi perché come vedete una struttura del genere ciclica ha bisogno di molta verb per fare una cosa del genere quindi a quel punto solo questo ci può dare un nuovo massimo quindi prima della fine dell'anno però se lo fa lo fa intorno a ottobre novembre intanto ed è estremamente complesso che avvengano cose del genere secondo me se andiamo a chiudere il trimestrale attuale immediatamente senza provare a fare almeno una struttura di rimbalzo in questa zona perché se già fanno cose del genere allora poi sul successivo vedete partiamo magari da 29,5 partiamo da prezzi alti e la possibilità c'è ma se noi qui andiamo in close totale del ciclo trimestrale quindi facendo una roba del genere poi rimbalziamo poi andiamo a chiudere qui qui sotto capite bene che da qui arrivare a qua sopra ce ne vuole tanto e in un ultimo quadrante ciclico teoricamente la probabilità non sarebbe a nostro vantaggio vi faccio vedere anche un dato estremamente importante che anzi facciamo così intanto vi mostro il calendario economico per questa settimana che me lo sono dimenticato all'inizio del video si vede che sono in ferie ragazzi io sono in ferie ovviamente quindi ogni tanto però registro comunque avevo promesso i video li faccio comunque allora qui i pc vedete il giorno 10 di agosto giovedì alle 2 e mezza il tasso di inflazione al 3 e 3 quindi atteso in risalita di un po' quindi il rimbalzo del gatto morto facciamo una cosa guardate vi faccio vedere quello che è l'istogramma di quello che abbiamo vissuto col tasso di inflazione negli ultimi 5 anni dal 2019 all'impennata della struttura del tasso di inflazione con la questione della pandemia guardate che meraviglia la struttura di trend anche no del tasso di inflazione la chiusura che ancora come vedete non è fuori pericolo perché per essere fuori pericolo dobbiamo scendere sicuramente sotto al 2% ci vorrà tutto il prossimo quadrimestre e poi anche probabilmente i primi mesi del 2024 e quando saremo qui dobbiamo vedere anche centennare il tasso di inflazione quindi questa sparata sarà stata una bolla che potrebbe essere stata riassorbita qui poi tra le altre cose ci sono tutti gli ultimi dati e tra quelli precedenti quelli previsti sono stati tutti molto positivi questa volta però il previsto è maggiore vedete della precedente anche se siamo intorno al 3% potrebbe esserci un rimbalzo perché ci può stare assolutamente in una fase del genere un rimbalzo però in linea di massima ragazzi non dovrebbe cioè andare oltre questo livello anzi si spera che magari si faccia qualcosina in meno in modo da confermare il dato attuale però la strada a livello dell'inflazione ancora non è del tutto delineata quindi tassi alti resteranno altri rialzi probabilmente dei tassi saranno anche fatti nel prossimo FONC della Fed vi faccio vedere anche quello che è l'attesa 44 giorni qui nell'attesa per esempio ragazzi vedete che c'è una pausa il 20 settembre quando avverrà il prossimo meeting una pausa sui tassi anche se Powell ha indicato che è probabilmente un altro rialzo dei tassi lo farà comunque di 125 quindi il mercato in questo momento si aspetta rialzo avvenuto nello scorso mese e pausa a settembre e rialzo nel successivo PONC che poi è una logica assolutamente molto corretta quindi dilazionando questa struttura di fase di rialzo però probabilmente i tassi resteranno alti anche per tutto il semestre del prossimo anno questo è quello che si evince almeno dalla questione dell'inflazione poi anche per la robustezza della questione economica attuale quindi dovrebbe essere ancora così vi faccio vedere poi quel dato che vi dicevo prima di chiudere il video allora l'ultimo minimo è di Bitcoin da quale è partito questa fase rialzista il 15 di giugno che poi ha segnato l'inizio del nuovo ciclo trimestrale era vicino alla media mobile a 200 periodi del 4,50% sul minimo e se invece ragioniamo sulla close il 6% quindi circa il 5% di distanza del mercato dalla sua media mobile a 200 periodi fermo restando che la media a 200 periodi teoricamente non andrebbe utilizzata sullo spot di Bitcoin perché è aperta anche sabato e domenica dovremmo utilizzare la 274 ho fatto un video su questa cosa spiegando che bisognerebbe includere questa cosa però tralasciamo insomma la questione perché non è nel numero in dettaglio che mi preme ragionare però per farvi capire anche se io facessi lo stesso tipo di ragionamento in questa zona mi uscirebbe che una zona eventuale di rimbalzo del mercato potrebbe essere intorno ai 28,5 che poi è stata effettivamente la zona in cui vedete qui il mercato ha reagito già precedentemente perché eravamo in una zona similare a 6 7% quindi vediamo che cosa succede allora se questo mercato volge alla chiusura del ciclo annuale probabilmente noi assisteremo ad un ritracciamento che andrà a diminuire questa distanza non sarà quindi il 5% ma magari un rimbalzo che avverrà intorno al 3 e se ipotizziamo che una cosa del genere dovesse avvenire in prossimità della chiusura del mese di agosto di settembre utilizziamo diciamo un dato intorno al 3% dovremmo essere intorno ai 27 e qualcosa ragazzi quindi prezzi di bitcoin dovrebbero scendere intorno ai 27 attenzione 27,5 attenzione se questa media che tra l'altro l'ho fatta un po' inclinata ma non è così perché girerà tra un po' e inizierà ad essere vedete più leggerina in questo modo quindi se una cosa del genere avviene e il mercato si avvicina a questi 27 prima di un'eventuale fase di rimbalzo attenzione a che non faccia il break della media 200 perché un break della media 200 configura l'inizio della fase di chiusura del ciclo annuale che può durare anche qualche mesetto quindi allora fase non positiva in questo momento non è estremamente negativa ma non è positiva vediamo se la volatilità aumenterà nei prossimi giorni d'agosto intanto c'è da attendere non c'è da fare nulla per i motivi che vi ho detto il mercato in questo momento sta scontando queste fasi cicliche vediamo se questo ciclo ventile riesce a reggere oppure diventa già di bassista a quel punto stop fino alla chiusura del trimestrale quindi a praticamente metà settembre e poi si ragiona per oggi è tutto fatemi sapere anche voi come vi state muovendo in questa fase estiva e noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao